La presenza di lingua francese cresce nel campionato 99-2000. Vengono presentati insieme Jason Maillet e François Modesto. La campagna abbonamenti va a rilento, i tifosi sono preoccupati e disillusi dopo quanto è accaduto nelle ultime battute del calciomercato. Vedi, figuraccia rimediata dall'Inter per Zé Elias, vedi partenza di Topolino Vasari. Non c'è ricetta migliore di proporre alla platea degli sportivi due volti nuovi. Ve li presentiamo, si chiamano François Modesto e Jason Maillet. Il primo arriva dalla Bastia a 21 anni e si presenta con le qualità di elemento estremamente duttile per Ketabalec. Potrà utilizzarlo in mediana ed in difesa in tutti i ruoli. Un tipo alla Sensini con le dovute proporzioni perché altrimenti il Cagliari non se lo sarebbe assicurato a parametro zero. Il secondo è il mitico Jason Maillet che cellino è seguito per quasi un anno fino a quando, per poco meno di 3 miliardi, non è riuscito a spuntarla sulla resistenza dello Chaterois, società che milita nella serie cadetta transalpina. Maillet che ha 23 anni è il tornante d'attacco che nell'organico del Cagliari prenderà il posto di Vasari. Lo hanno accompagnato Giorgio De Giorgis e Bruno Saten che sono anche i procuratori di Jonathan Zebinat e Patrick Bommat. L'uomo su cui si punta è il congolese, nel suo passato una comune militanza nel Chaterou con Patrick Bommat e non è un caso che inizialmente a fargli da interprete sia proprio il camerunense. Il tuo vero ruolo in campo, tu dovresti essere un tornante però sei stato un po' di che è stato impiegato da seconda punta in questi allenamenti di Brunico. Per oggi è sicuro che mi sono ritrovato in attacco all'entrenamento. È vero che si è trovato un po' più centrale però lui è venuto come calciatore e vedrà come l'allenatore lo farà giocare. Sei molto discusso sulla tua età. Alcuni hanno detto sì è del 76 a 23 anni, altri invece hanno detto no è del 70 anni a 29. Questa è una storia che gira dall'anno scorso. L'inizio è difficoltoso, Maielei parte con Tabarez ma poi è venuto il 4 gennaio del 76 quindi ha 23 anni e va a compilare 24 anni. L'inizio è difficoltoso, Maielei parte con Tabarez ma poi si ritrova Olivieri e per un giocatore particolare come lui tutto il discorso si complica. Sì perché purtroppo Jason aveva una mentalità completamente diversa di Patrick perché Patrick ha avuto la fortuna di arrivare giovanissimo in Francia e ha visto un'altra realtà. Jason è arrivato tardissimo in Francia e mi sa che ha dovuto scappare del suo paese perché c'è stata una guerra civile per 10 anni e per fortuna è arrivato in Francia però con la mentalità su del suo paese. È un giocatore che potenzialmente aveva tantissime qualità però purtroppo era un giocatore che vedeva il calcio come un divertimento sempre come un gioco e in Italia purtroppo non puoi avere troppo questo atteggiamento lì perché ogni domenica devi rendere al massimo perché sennò la gente non è contenta di te e poi le tue prestazioni non sono sempre uguali o quasi uguali non puoi giocare in Italia secondo me. Pulivieri non sa aspettare il decollo dell'esterno di destra e per Maielei prevede compiti tattici troppo elaborati. Inizia così un difficile rapporto fatto di sostituzioni premature che lo sottopongono ai fischi del pubblico. La prima è in Cagliari Udinese. Al Sant'Elia torna Muzzi per un fraterno duello con Matteo Villa. Il bomber di Morena realizza due delle tre reti della vittoria bianconera e Maielei viene sostituito al 35esimo. Non è l'unica polemica della giornata. Fa discutere in Savonarola del calcio il fatto che Muzzi e Villa trascorrono insieme il dopo partita. Secondo me è giusto perché loro hanno conosciuto mi sa 4-5 anni qua insieme. Erano uno capitano e l'altro vice capitano. Erano due persone molto importanti dentro l'ospogliatoio e molto legatanti anche fuori dal campo. Secondo me per i 90 minuti si sono dimenticati che erano amici e poi sono andati insieme via. Ma è giustissimo perché anche mi pare che le famiglie sono molto amici tra moglie. È una cosa giustissima perché purtroppo in Italia si mette sempre il sospetto ma secondo me sono solo fesserie perché dopo che cresci con il tuo compagno di squadra dopo 5 anni che fai anche camera insieme è giusto che dopo la partita ti riavvicini e puoi andare via insieme. Il calcio e lo sport non può dividere un'amicizia, può dividere nella contesa della partita sicuramente ognuno combatte per la propria squadra ma finita la partita se io sono amico di un avversario rimango amico. Certamente non perché in un'altra squadra non posso più essere amico su. La giornata più bella quella che sembra consacrare Jason Maiele per fargli lasciare tutti i problemi alle spalle è la trasferta a Reggio Calabria. La gara però inizia con l'espulsione di Oliveira tutta in salita. Il calcio e si riprende e sul cross di Macellari c'è un ragazzo che sale a toccare le stelle per schiacciare il pallone in rete. E allora sono solo capriole come nei polverosi campetti del Congo. Maiele un anno, quell'anno, un bravo ragazzo, si vedeva che, mi piace raccontare, so che piace gli aneddoti, io ero sempre il primo ti ricordi di arrivare ad allenamenti. Un giorno arrivo da Semini, entro dentro lo spogliatoio e c'era già Jason che mangiava e ho visto una scatola, un cartone di pizza, con metà pizza e la Coca Cola. E gli dico, Jason, ma perché? C'avevo fame, ha mangiato la pizza, cosa dovevo mangiare? E allora gli ho detto, guarda che magari tu sei stato abituato a così, però in Italia funziona un po' diverso, cioè dovresti mangiare un po' prima, cose un po' più leggere a casa, fare le cose, ah va bene, va bene. E da allora per lui, perché non gli aveva mai detto nessuno, quindi lui andava avanti così. Anche tatticamente, lui era un po', faceva un po' come voleva, fino a quando nessuno gli dava l'input. Nel momento in cui gli dicevi fai quello, lui era precisissimo nel fare quello. Poi aveva grandi potenzialità tecniche e fisiche, quindi riusciva. E poi era uno di gruppo, uno simpatico, quindi si poteva scherzare tranquillamente con lui. Forse Olivieri voleva anche educarlo, ma il suo metodo era sempre lo stesso con chiunque, ferrea disciplina e sostituzione frequente. Io ne ho fatto un sacco di volte, lui mi sa che doveva arrivare un anno prima, mi sa che Ventura lo voleva a tutti i corsi. Secondo me, come giocava il Cali all'epoca di Ventura, lui aveva il suo posto assicurato, perché lui doveva giocare alla destra e poteva fare molto bene. Lì doveva ancora un po' di coppa all'allenatore che aveva preso quello posto lì e non lo faceva giocare al suo posto giusto, perché lui ha sempre giocato alla destra. Lo faceva giocare o come secondo attaccante o allora come addirittura centrocampista e anche lui ha avuto molte difficoltà.